Quello di Elisabetta Franchi è il classico errore prima di comunicazione, perché dice la cosa sbagliata nel modo sbagliato, e poi di crisis management, perché si infila in un vortice senza uscita, tipico di chi prova a rimediare ma finisce soltanto per peggiorare la situazione. Tralasciando le sue teorie sul DNA delle donne che devono accendere il camino e sugli uomini mammoni e bambinoni che non vogliono crescere e non conoscono il sacrificio, da imprenditore e da amministratore delegato, io credo che il problema di cui parla sia reale, ma lei è riuscita ad affrontarlo ed argomentarlo nel modo peggiore possibile. Che cosa avrebbe dovuto dire quindi Elisabetta Franchi? Ad esempio che se un imprenditore assume soltanto ANTA, allora si nutre in modo parassitario dell'investimento che altri imprenditori hanno fatto su quella persona prima di lui, non solo informazione, ma anche sostenendo le sue scelte di vita. Che se i propri dipendenti lavorano 24 ore al giorno, non potranno respirare altra aria, arricchirsi nella mente e nell'anima, coltivare le proprie passioni e portare nuove idee in azienda, ma soltanto eseguire passivamente le idee degli altri. E avrebbe potuto dire che se lei ha avuto due figli riuscendo comunque a fare tutto, allora il suo compito è quello di motivare le giovani lavoratrici anziché escludere che possano fare lo stesso. Sulla maternità avrebbe potuto fare un discorso molto serio e concreto sul costo che il periodo di assenza da lavoro comporta per l'imprenditore, perché dopo aver investito soldi e anni di tempo per formare una risorsa, si trova costretto a sostituirla con una nuova da formare da capo. E dunque proporre una soluzione intelligente, che di certo non può essere quella di escludere le donne che vogliono avere dei figli assumendo soltanto over 40, ma pretendere maggiori diritti e tutele, non solo per i dipendenti ma anche per gli imprenditori, così da lasciare i primi liberi di costruirsi una famiglia e consentire ai secondi di assumere senza il timore che una possibile maternità comporti un danno per l'azienda. Infine stamattina, nel tentativo di rimediare con qualche intervista, Elisabetta Franchi avrebbe potuto semplicemente chiedere scusa, perché quella di essere stata fraintesa o strumentalizzata è una risposta che funziona se a fraintenderti è una sola persona, mentre se milioni di persone guardano un tuo video e interpretano male il tuo messaggio, allora non sono loro ad averti frainteso, ma sei tu ad aver comunicato nel modo sbagliato. Ecco, questo secondo me sarebbe stato un discorso da donna, madre e imprenditrice emancipata.